cinque modi per toccarlo per causare un'ossessione psicologica gioca con il suo corpo allora questo può essere fatto in diverse circostanze però per un uomo il contatto fisico è molto importante quindi se sei donna devi imparare a gestire il contatto fisico d'altra parte è una è uno dei quattro canali di comunicazione non verbale ricordo che i canali della comunicazione non verbale sono la prossemica cioè la gestione delle distanze che anche questo è molto utile molto importante la cinesica la gestione della gestualità della mimica la paralinguistica cioè tutti i tratti paraverbali della voce quindi il tono la frequenza il volume eccetera eccetera e poi il contatto fisico quindi il contatto fisico è un canale di comunicazione non verbale che deve essere utilizzato nel modo giusto tra l'altro il canale più diretto perché il tatto assieme allo fatto il gusto sono i sensi più antichi più attavici dell'essere umano attraverso il tatto tu puoi dare stimolazioni molto forti puoi andare a condizionare la persona quindi il modo migliore se parlando così con una persona sconosciuta ad esempio con una persona che conosci da poco è quello di sfiorare toccare delicatamente toccare deliberatamente e consapevolmente ma che sembri casualmente le braccia ad esempio questo è un punto molto importante sfiorarlo è fondamentale questo devi farlo casualmente ad esempio avvicinandoti puoi sfiorargli una mano sfiorare perché genera delle tensioni emotive ovviamente puoi anche sfiorare altre zone ad esempio facendo finta se alla cravatta di aggiustare il nodo della cravatta gli sfiori quelle dita al collo che è sempre una zona erogena oppure che ne so vedi un anello e gli tocchi gli sfiori leggermente la mano puoi vedere l'orologio che bell'orologio gli sfiori far vedere gli sfiori il polso ecco lo sfiorare genera delle tensioni emozionali molto forti ovviamente più è delicato più è potente perché come dire un po come passare una mano se tu puoi passare una mano vicino ideale lo sfioramento senti avvicinarsi il calore molto molto più tra virgolette eccitante che è boom mappone diciamo così ecco quindi e poi può essere anche casuale fondamentalmente ovviamente quindi quello che puoi sfiorare appunto beh la bocca è difficile è facile l'avambraccio potresti anche farlo sulla schiena mentre parli magari appoggi una mano sulla schiena sulla spalla anche se è coperta da vestiti non importa comunque sono sempre sensazioni molto forti ecco questo verrà impresso nella memoria emozionale per quello che diventerai un'ossessione puoi causare un'ossessione perché quel il contatto lo sfioramento viene impresso proprio nella memoria emotiva soprattutto se si tratta di una persona sconosciuta ovviamente questo non vale il contatto serve sempre se una persona con la quale hai una relazione bene è diverso anche qua comunque ci sono dei modi di toccare che vanno sempre bene poi è un altro modo il secondo modo è quello di toccare ma non usando le mani ma usando la bocca uno dice ma come faccio a usare la bocca beh ad esempio ci sono sfruttando mille situazioni ad esempio che ne so sei in una zona dove c'è rumore con questa persona e ti avvicini per parlargli nell'orecchio parlandogli nell'orecchio però con le labbra puoi sfiorare il suo orecchio proprio sfiorarlo quasi come fargli sentire il calore del fiato insomma ecco quindi lo sfioramento dell'orecchio con le labbra è un altro stimolo che è veramente molto coinvolgente molto eccitante che tu puoi utilizzare ovviamente non è che puoi farlo come dire con una persona sconosciuta proprio sconosciuta però basta poco insomma talvolta anche con uno sconosciuto è metti sei in palestra vuoi dire qualcosa a qualcuno c'è la musica la palla per una palestra c'è ti avvicini gli pali nell'orecchio oppure è un'altra cosa che puoi fare quando vengono dati bacettini conosci una persona un bacio ti avvicina la guancia l'altro inavvertitamente glielo dai magari al bordo proprio del labbo qua ma sfiorato ecco questo è un'altra è un'altra cosa molto importante poi un altro un altro modo è quello di invece il terzo il terzo modo è quello di andare a entrare in contatto direttamente con alcune parti del tuo corpo ad esempio potresti avvicinarti lateralmente infatti io suggerisco sempre quando ti avvicini magari anche per parlare per cosare e soprattutto se per caso è un seno prosperoso non guasta mai ma anche se non ce l'hai tanto prosperoso va bene uguale e gli sfiori con il seno il braccio la parte esterna del braccio è un altro stimolo che ovviamente puoi dare in situazioni molto molto diverse e gli generai una situazione di diciamo di interesse oppure magari seduti non devi fargli ginocchino diciamo così deliberatamente ma magari che ne so spostandoti muovendoti perché devi fare qualcosa per un breve istante col tuo ginocchio vai a toccare la sua gamba un altro segnale ma deve essere però un istante ovviamente ecco questo queste sono tutte cose che possono funzionare insomma sono tutte strategie che possono funzionare devono essere fatte nel modo nel modo migliore ovviamente un altro un altro modo per andare diciamo a toccare in qualche modo è quello di il quarto modo di utilizzare di mescolare diverse forme di contatto fisico ad esempio sfiorare magari in un caso e poi successivamente la stessa zona stringerla prima la sfiori magari gli sfiori il braccio oppure lo sfiori col seno e poi dopo lo stringi con la mano parlando e come te avevo detto è interessante questo doppio contatto diciamo nello stesso punto da uno stimolo da uno stimolo molto molto forte e poi il quinto modo che è un po più difficile però lascia sicuramente il segno con lo sconosciuto è diciamo farti aiutare in qualche modo no che ne so fingi di prendere una storta e ti fa aiutare a camminare un pezzettino oppure insomma trovi diversi sistemi fai finta di inciamparti quindi per un contatto più diretto se al supermercato fai la sbadata e gli scontri non dico magari col carrello oppure mentre cammini insomma ci sono mille modi per avvicinarti fai finta di perdere l'equilibrio e ti tieni un attimino a lui sono tutti i modi di contatto in presente che il contatto è subito un modo molto rapido anche per fare conoscenza questo quinto modo un po più complicato però se lo fai nel modo giusto è molto potente bene per questo video è tutto seguimi su instagram massimo terramasco ufficiale sul tiktok